Andolina, sul Porto Vecchio a me è piaciuto un po' il tuo intervento perché ad un certo punto te l'hai detto alla fin fine, questa è una soluzione che a molti magari non piace, però è l'unica possibile dopo che progressivamente l'Italia, sarà contenta giù la stante, ha demolito tutte le infrastrutture che collegavano ha messo vincoli assurdi, insomma hanno fatto di tutto perché Trieste alla fin fine si profondasse e dall'altro lato i politici triestini da qui a 50 anni hanno fatto di tutto per mettersi a 90. Se ti è piaciuto sei un buon gustaio, però è vero, cioè Trieste, il Porto, sono stati demoliti per volontà anche dei triestini, ma insomma è chiaro che vari governi hanno fatto il possibile per distruggere quello che c'era. Ora non possiamo che prendere atto che è successo, cioè possiamo lamentarci finché vogliamo però di fatto quel porto non è più utilizzabile, almeno al 90%, l'Adria Terminal io spero che rimanga come tale. Il fatto che ci sono state fatte delle ingiustizie, il fatto che magari sta scritto nell'allegato 8 che non sepole e cose del genere, allora manca l'invasione da parte delle legioni romane che hanno spiazzato i Liburni o i Vendi o gli Illiri potrebbe essere un motivo di contesa. Quel trattato di pace varrà anche migliaia d'anni, ne ripareremo ancora fra 2.000 anni, insomma. È storia, è un documento interessante che però non può fermarci. La situazione è questa, dobbiamo cercare di rimbocarci le mani, qualcuno deve pensare di rimbocarci le mani. Non sono ottimista al 100% perché ci hanno dato un'opportunità, ma non ci hanno dato la soluzione. Adesso qualcuno deve investire in quell'area e non è facile perché a Trieste non si investe da molto tempo, soprattutto nell'edilizia. Abbiamo 3 milioni di metri cubi da costruire e nessuno si fa avanti, ha i mezzi o la volontà, il coraggio di farlo. Ricordiamo quello che è successo in Via dell'Istria con quella collina sbancata che nessuno vuole riempire perché sono finiti i soldi in qualche modo, quindi pensiamo alla fiera, alle caserme. Quindi bisognerebbe trovare un asiatico, un americano che venga a investire qui. Se però questo si ritrova con i vincoli della sovrintendenza, la stessa sovrintendenza dei Deors, la sovrintendenza del magazzino Vini che ha imposto di spostare i mattoni per un poco perché sono sacri quei pezzi di mattoni sfracellati, io credo che un cinese che si trova davanti a una situazione del genere magari scappa. Quindi speriamo. Io vorrei capire questo. Purtroppo ho pochi anni per ricordarmi probabilmente altri precedenti, però faccio un escluso da qui ai 15-16 anni che posso ricordare io. Oggi abbiamo sentito un cambio di rotta, di una certa rotta, ma con Di Piazza abbiamo fatto questo, ma manca qua. Prima ancora abbiamo fatto questo, ma... Cioè ogni volta che c'è qualche novità, c'è qualche novità, ma abbiamo sempre un ma. Perché stavolta forse potrebbe essere la, tra virgolette, la volta buona, anche se parliamo di qui, a comunque 10-15 anni. Perché se no il problema è vero, la gente comune si domanda, sì, questa sarà la settima volta che uno sente eh, adesso cominciamo, adesso cominciamo, però qua non si comincia mai. No beh, insomma, l'emendamento alla finanziaria del senatore russo è stato un miracolo. e forse anche ho dovuto una svista di qualcuno, perché in altre occasioni lo stesso testo è stato proposto, credo, nel 2011 forse, eppure non era passato. È successo, come detto, ho una svista a buona volontà, non lo so. Ci hanno dato in mano uno strumento, una possibilità, e adesso il problema è nostro. Siamo così qua, l'Italia? Ho dei nostri nipoti, perché appunto, come detto, non sono tanto ottimista che troveremo i miliardi per investire. Siamo così scomodi all'Italia che ogni volta, per miracolo, riusciamo a ottenere qualcosa? Sì, cioè dalla conquista italiana di Trieste è chiaro che questo porto non serviva più, e questo porto è stato fatto dall'Austria per l'Austria, per il suo territorio. E quando l'Italia si è presa a Trieste, il porto, non dico che diventava scomodo, ma sicuramente inutile, perché c'erano Venezia e c'erano Genova.